Con Olga Mercai, attaccante del bra, oggi doppietta in questo 3-0 alla città di Varese, doppietta su in totale 3 assist di Marco Gaeta, poi il terzo Aleandro Campagna, con 6 gol tu sei il capocannoniere della squadra, ci sono tanti ingredienti per questa piccola intervista, partiamo dalla doppietta di oggi e dalla vittoria. No certo, sono molto contento, poi è servita anche per la vittoria, quindi sono molto soddisfatto in primis per la vittoria, poi il gol quando arrivano sono ancora molto contento. Allora, a parte l'1-0, quel sinistro, insomma lì nell'area che l'hai messa di potenza, di precisione, il 2-0, raccontaci questo 2-0, questa rimessa in attacco, insomma tu fai battere la palla, poi ti inventi questa rovesciata sotto l'incrocio, insomma raccontacela, noi l'abbiamo visto dalla tribuna. Diciamo che è una roba che ho detto anche ai ragazzi dentro lo spogliatoio, non so perché ma mi sentivo che quella palla arrivava lì, mi sentivo proprio, ho detto Gaela spizza ma arriva la palla qua, e poi quando è arrivata la palla così alta ho detto la provo, dove va va, perché comunque non puoi dire, la metto sotto l'incrocio in rovesciata da lì dentro l'area, però è andata bene, sono contento e andiamo avanti. Allora era importante per voi, dopo la sconfitta nel recupero a Lavagna, riprendere il cammino, questi tre punti vi permettono di rimanere in scia con il Gozzano, approfittando anche del pareggio di ieri del Sestri Levante, insomma adesso Gozzano e Bra sono lì davanti. No, 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 loro non mollano, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, pensare alla partita di mercoledì già, che si sa quando vai in Liguri è sempre molto difficile giocare contro i Liguri, quindi dobbiamo pensare a portare questi tre punti a casa, pensare a noi stessi, e portare più punti possibili a casa. La vittoria in casa mancava dal 20 dicembre con l'Anconatese, poi nel mezzo c'è stata l'attesa fino a domenica scorsa a Chieri, ma in tutto questo periodo è una squadra che è rimasta sempre compatta, soprattutto anche l'ambiente, il fatto che comunque siete rimasti lì lo testimonia? Certo, certo, ma io l'ho sempre detto anche nell'ultima intervista, che il gruppo fa tutto, noi siamo un gruppo veramente unito, che sta sempre insieme, fuori dal campo ridiamo, scherziamo, questo si vede quando entriamo in campo, quando ci sono le partite e ci aiutiamo tutti, quindi questo secondo me fa la differenza. Ultima cosa, Holger, questa doppietta, se c'è una dedica da fare, a chi la vuoi dedicare? La dedica posso solo dedicare alla mia famiglia, tutti, tutti loro che mi stanno vicini intorno, che mi fanno solo del bene, solo a loro.